Ciao, sono Elisa Mollinarolo, campionessa italiana di salto con l'asta. Ho iniziato ad utilizzare i dispositivi Tau Patch un po' per gioco e dopo l'applicazione di questi dispositivi nei tre weekend successivi di gare ho battuto per tre volte il mio record personale. Mi incuriosiva molto questa nanotecnologia ed era un po' incredula che dei dispositivi così piccoli potessero avermi aiutata a battere i miei record personali. Così ho deciso di toglierli e di provare senza. Le gare successive non sono andate poi così bene, non sono più riuscita a battere il mio record personale soprattutto perché erano sempre condizionate da qualche dolorino qui e là dovuto probabilmente anche dai 15 anni di ginnastica artistica ad alto livello che ho sulle spalle. e quindi ho deciso di informarmi e di capirne di più su questa nanotecnologia e ho la fortuna di potermi affidare a chi l'ha inventata, quindi al dottor Fabio Fontana. Ho iniziato un percorso con lui e con Tau Patch facendo appunto tutti i test del caso, quindi i test posturali, soprattutto perché il mio sport è uno sport molto asimmetrico e quindi ho delle disimetrie importanti. Grazie all'aiuto di Fabio e grazie all'aiuto di questa nanotecnologia indosso i dispositivi tutti i giorni e riesco a togliere quei doloretti e quei fastidi fisici che spesso mi impediscono di dare il meglio in allenamento, di completare gli allenamenti quotidiani e anche in gara mi supportano sia per la competizione sia per il recupero. Quindi consiglio assolutamente a tutti gli sportivi di utilizzare Tau Patch affidandosi a un professionista perché sono veramente un aiuto valido e un compagno d'allenamento fondamentale.